Per entrare nella casa della gente, guardarla in gli occhi, dovete dire qual è il vostro pensiero perché la gente sa che può fidarsi di persone per bene, di persone trasparenti questo non è una bevessa, questa è la storia di Domenico Mangiano Cioè Domenico Mangiano è stato sempre una persona trasparente e una persona rispondente Oggi noi dobbiamo lavorare tutti insieme, ma non solo tutti insieme per il nostro paese Io vedo tanto i giovani e penso che noi non dobbiamo avere paura di ascoltare i giovani I giovani devono essere la forza della nostra amministrazione, il fungolo della nostra amministrazione Questo è il nostro programma elettorale E' chiaro che il programma elettorale stanno lavorando i giovani insieme a quelli più giovani della nostra lista Ma il nostro programma elettorale è semplice A me non interessa questo punto del paese, quella strada, quella piazza Noi dobbiamo mirare al paese della sua interenza Noi dobbiamo mirare a un paese che deve essere tutt'uno con i cittadini, con gli uomini, le donne E' giovani di questo paese, questo deve essere un paese Non dobbiamo avere paura delle nostre idee, perché le nostre idee sono semplici ma sono chiarissime Per cui tutti noi dobbiamo fare campagna elettorale Fare campagna elettorale non significa andarci a prendere la peparezza Fare campagna elettorale significa andarci a prendere i voti Fare campagna elettorale significa andare nelle case della gente E' spiegare bene quali sono i nostri progetti, le nostre idee, la nostra forza, la nostra trasparenza Dobbiamo insinuare nelle persone il dubbio della scelta Anche in quelli che forse già hanno deciso di non votare noi Dobbiamo far capire che per il bene di questo paese, per la descita di questo paese Per l'amore e il sentimento che noi portiamo a questo paese La scelta giusta è la vista insieme di domenica